da che l'avevo presa, da che l'avevo presa, ottimo, ottimo, mamma come correva, sai chi è? mamma come fila! era Emma Usto che correva tanto, questo è Liguori, questo è Liguori, tiro di Liguori, Emma Usto, grande Bostius, bellissimo, bellissimo! qua niente sederino, bella azione Bostius! te l'ho detto Andrea, qua la divisione in cella, però non la puoi fare!